ragazzi buongiorno è giovedì sono le 14 08 il punto vendito ormai è ufficialmente chiuso il giovedì lo sapete lavoriamo soltanto mezza giornata ma sono qui perché dovevo aspettare lo scarico e ci sono arrivate un sacco di cose nuove e allora velocissimissimissima io ve le faccio vedere perché tanta era pure su richiesta mi sono arrivate le smanicate con il collo a lupetto mi sto mi scusa e voda e modal ragazze lunga il giusto perché comunque queste si appoggiano pure dentro al pantalone diversi colori sarò proprio velocissimo quest'oggi nel far vedere gli articoli le camicie in flanella quella quadrucci ovviamente non può mancare la colorazione con il rosso un po di beggiolino e di latte la colorazione con il nero questa volta nero beige e latte ma domani le scopriamo un'altra novità che ci è arrivata perché insomma parliamoci chiaro novembre comincia il periodo delle sovrapposizioni e sovrapposizione non può non essere quella che fa da padrona è decisamente quella con la camicia magari il maglioncino o il cardigan e quindi effetto a camicia ma in realtà è una maglia questa volta è totalmente una maglia con i bottoni che si aprono tutti quindi la comodità della camicia e la praticità della maglina in taglia unica disponibile in diverse colorazioni questo ve l'avevo un po anticipato alcune di voi sono passate mi hanno chiesto delle camicie in tinta unita un pochino più confortevoli e già avevamo pensato di fare questo modellino e poi tanta maglieria da poter coordinare eventualmente anche sopra a quella che vi ho fatto vedere adesso di camicia ma anche sopra a quella di flanella perché no ragazzi maglie morbide in misto viscosa modal soffici e poi ancora ragazze di nuovo disponibili le maglie nelle nuove fantasie per quanto riguarda il tactile giro collo con la manica a tre quarti new entry a grande richiesta ragazzi eccoli finalmente sono arrivati assortiti in tutti i colori pantaloni in lanetta quelli lunghi a palazzo morbidi comodi caldi soprattutto con l'elastico in vita in taglia unica latte bordeaux e nero e volendo da coordinare oltre al maglione che vi ho fatto vedere prima per fare un completo ragazze la versione del maglione con lo scollo a v se non vi piace il giro collo e soprattutto la versione del maglione un pochino più corta se non volete il modello oversize da coordinare sul pantalone ovviamente sono tre pezzi anzi tre maglioni più un pantalone che volendo possono fare completo ma che potete prendere anche separatamente ragazzi anche perché i maglioni ci sono di tutti 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 i colori e ancora continuiamo con le camicie che oltre nella versione in titta unita ci sono arrivate anche in questa microfantasia e soprattutto in tessuto di tactile ragazze mi sono ritornati di nuovo disponibili poi maglioncini laminati sia quelli giro collo un pochino più stretti che quello un pochino più larghi e per alessandra ti dico che mi sono ritornati di nuovo disponibili i pantaleggings in jeans con le fasce laterali assortiti dalla xs fino a una 52 se non erro a questo punto 14 e 17 circa il punto vendita ufficialmente chiuse ragazzi escono dalle medie ragazze rgn lovers cioè io vi aspetto domani su instagram facebook youtube tiktok e soprattutto qui al negozio perché oggi è giovedì il pomeriggio saremo chiusi ma domani con tutte queste novità ragazze ne abbiamo di cose da fare da farvi vedere quindi mi raccomando passate ci vediamo domani ciao